Non ma no, sto che spero di fare la conoscenza, spiegatemi, che cosa significa? Ho già spiegato una maestra di scuola? Ha coscienza, vorrei sapere che è questa coscienza che spesso ha già sentito di non ma no. Sto che spero di fare la conoscenza, recitemi, che cosa significa? Ho già spiegato una maestra di scuola che aveva scuola all'università, e mi ha detto, figlio mio, sta parola si usava così, ma tanto tempo fa, ora la coscienza si è disintegrata. Grazie. Grazie.